Il Comando Europeo delle Forze Armate Statunitensi ha rilasciato il video dell'incontro ad alta quota martedì scorso nei cieli del Mar Nero tra un drone di sorveglianza statunitense e un jet da combattimento russo. La telecamera montata sul drone mostra la coda del velivolo e l'edica che gira, poi un caccia russo che si avvicina e in due successivi passaggi scarica carburante sul drone. La Russia nega che vi sia stata collisione tra i due velivoli, ma il drone danneggiato è stato fatto cadere in acque internazionali dove, secondo la CNN, si sono dirette unità navali russe con base nei porti della Crimea. Un episodio che ha innalzato la tensione tra Russia e Stati Uniti mentre si registra un'importante iniziativa diplomatica cinese. Il ministro degli esteri, King Gang, parlando con il suo omologo ucraino Kuleba, ha auspicato che tutte le parti riprendano i colloqui di pace il prima possibile e ritornino sul binario della soluzione politica perché, ha aggiunto, Pechino teme che la guerra possa aggravarsi e andare fuori controllo. Anche il presidente turco Erdogan annuncia che continuerà la sua mediazione per riportare le parti al tavolo dei negoziati, mentre un rapporto dell'ONU accusa la Russia di avere commesso in Ucraina crimini contro l'umanità che necessitano di ulteriori indagini. È di un morto e due feriti il bilancio di un incendio in una sede della guardia di frontiera russa a Rostov, al confine con l'Ucraina. Inizialmente l'agenzia russa TASS aveva parlato di un'esplosione, successivamente di un cortocircuito. Intanto Israele ha approvato la possibile cessione a Kiev di sistemi antidrone e la Polonia ha annunciato che trasferirà in Ucraina quattro aerei MiG-29 della propria aeronautica militare.